Buongiorno, sono Reduce, sì perché è stata veramente una bellissima esperienza, molto impegnativa, dal bellissimo corso che abbiamo tenuto a Reggio Emilia, Risveglia il tuo potere interiore. È stata veramente una bellissima esperienza dove si è risvegliata l'energia guerriera. Molto bene, ti auguro di esserci la prossima volta perché molte persone hanno detto proprio che non hanno mai sentito un livello di energia così potente ed è un livello di energia che loro stessi hanno sperimentato, sentito nel loro corpo, hanno smosso un sacco di emozioni e si sono sentite molto più pulite, libere e leggeri una volta terminato il corso. Quello di cui ti voglio parlare oggi è la tua apertura verso le possibilità della tua vita. Guarda, incontro tantissime persone che comunque si creano delle situazioni, mi dispiace dirlo, ma è proprio così, si creano delle situazioni che le limitano. A volte il denaro, a volte delle situazioni familiari in cui si sentono bloccate e si impediscono proprio di manifestare loro stessi, proprio a causa di questi blocchi che loro creano nella loro vita. Ebbene, io mi auguro che tu non sia una di queste persone, ma se dovessi essere una di queste persone, sappi che quei limiti che tu percepisci nella tua vita sei tu che li stai creando. E come li hai creati puoi andare oltre, puoi lasciarli andare, puoi permetterti di vivere una vita senza quei limiti. L'importante è che tu ti possa rendere conto, che tu ti non posso, che tu esprimi nella tua vita. Sono pure illusioni, non corrispondono a verità. Non è vero che tu non puoi. Tu puoi realizzare, fare e scegliere tutto quello che vuoi nella tua vita. Magari semplicemente non sai ancora come. Quindi la mia sfida è questa. Prendi un foglio, dividi la tua vita per ruoli o settori. Dove tu, nei vari ambiti della tua esistenza, comincia ad annotare tutti i non posso. Tutte le volte che tu esprimi un non posso, sappi che stai creando tu stesso una limitazione. E tutte le volte che lo esprimi, ti suggerisco di farti questa domanda. È proprio vero che non posso o semplicemente non voglio? Oppure magari non ho ancora trovato il modo. Bene, questo è uno stimolo per aprirti nuove frontiere. Ti auguro di eliminare tutti i non posso dalla tua vita e di usare al posto del non posso la parola io scelgo. Questo ti apre un campo di infinite possibilità e soprattutto di libertà. Ciao, buonissima giornata. Ciao, buonissima giornata.